La differenza non è solo lì, anche via si ribalzi in più della di Firthia, ma c'è una granza della grande solidità, anche fisica, anche se qui un po' di Firthia di più. Luggero ancora vuole andare da Serafini, riceve Serafini, in un tentamento, la stessa di Serafini per Batti, la segna a Batti, grande Serafini, grande Serafini, grande Serafini, grande Serafini, non l'ultimo giocatore. Serafini, grande Serafini, grande Serafini, grande Serafini! il gazzetto va a realizzare il primo in gioco il basso di una terza 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 il basso di un fettino il cadetto di un basso di un fettino pensa che cosa sono andato a guardare però adesso gli amici che ha voluto più dire è il gioco è il gioco è il gioco il gioco è il gioco per la prima volta la gioco il gioco è il gioco è il gioco il gioco ha il basso di un attacco però c'è Riccardo Batti per il ribazzo offensivo a zero per la Liofini guarda sotto per Bassi che si appoggia a tabellone c'è il canestro di Riccardo Batti il basso di Edoardo Dievito uno bellissimo mamma mia Edoardo Dievito la visione per il gioco la visione per la Liofini è il gioco di Riccardo Batti il gioco di Alex Alicone questo punto è il gioco da Riccardo Batti e poi va a chiudere un grande fisico anche su questo caso abbiamo un bagno di parte di Riccardo Riccardo Batti Riccardo Batti 88 a 52 di Riccardo Batti a 30 di Riccardo Batti a 30 di Riccardo Batti Bassi ancora Zampogna la vince la penetrazione Bassi si alza da due punti e c'è il canestro di Riccardo Bassi a 70 di Riccardo Batti e ritrovato la terapia di Riccardo Batti a 30 di Riccardo Batti a 30 di Riccardo Batti bravo 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 e ci va da Nicolic io impossibile di Nicolic vanno più vero rimbalzo di bassi Antonio cento di Riccardo Batti 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 di Riccardo Batti